Vediamo già infatti tratto da Repubblica, dalle pagine milanesi di Repubblica di oggi un virgolettato, un virgolettato del Comune, in particolare dell'assessore al commercio Franco D'Alfonso che dice gli accordi vanno rispettati, insomma perché l'obiettivo diciamo del Comune era di arrivare al 30%, siamo per il momento circa al 20% ed un numero che viene giudicato non sufficiente. Col 20% davvero si fa fatica per i tanti che rimangono in città a riuscire a fare degli acquisti, anche una semplice spesa alimentare normale, bisogna muoversi tanti, insomma è un numero, il 20% che a giudizio di fede del consumatore è assolutamente insufficiente per una città come quella di Milano. Ma è insufficiente perché i dati che il Comune ci ha fornito a noi rispetto alla presenza a Milano dello scorso anno era di circa 700 mila cittadini che non avevano lasciato la città. La proiezione per quest'anno era di 850 mila persone che rimangono a Milano, è chiaro che con un numero così alto di persone presenti a Milano vuol dire che stiamo parlando più del 50% delle presenti milanesi, per cui siamo di fronte a una presenza importante di milanesi a Milano e una carenza assoluta di negozi aperti di tutti i tipi. Se uno vuole comprarsi qualcosa, gli unici che hanno dato a quel tavolo del Comune una garanzia di rimanere aperte sono i grandi supermercati. Parleremo infatti anche nel dettaglio della grande distribuzione che è contrario dell'attività più piccola, invece si fa trovare più pronta, possiamo dire. Sono tante tante le attività che rimarranno aperte per tutto il mese di agosto, addirittura a Ferragosto un grande centro di distribuzione su due. Insomma dicevamo sono circa il 20% i negozi che rimarranno a Milano aperti durante il mese d'agosto, 10% circa e meno rispetto a quelle che erano state invece le richieste del Comune, dell'assessorato al commercio che prevedeva, sperava almeno in un 30% per garantire i servizi appunto ai tanti milanesi che rimangono ormai durante il mese di agosto qui in città. Mi diceva lei che rispetto all'anno scorso quando circa erano 700 mila i milanesi rimasti a Milano, quest'anno saranno circa 850 mila, quindi un incremento notevole. Questa è la stima, questa è la stima che è stata fatta a quel tavolo e questa stima è stata fatta appunto confrontando i dati dell'AMSA sui rifiuti e sull'ATM. Quindi si presuppone che si arrivi a 850 mila persone, quindi stiamo parlando di un bel numero di sui. È un incremento da un anno all'altro notevole comunque, 150 mila su una popolazione di poco più di un milione e 300 mila abitanti sono tantissimi. Sono moltissimi, sono moltissimi. È una fotografia perfetta del momento insomma dell'Italia oltre che di Milano? È una fotografia direi abbastanza perfetta, lo vediamo anche per esempio sull'andamento dei saldi a Milano. Voglio dire, i negozi sono rimasti, non dico vuoti, ma sono pochi quelli che hanno avuto degli incrementi. Per esempio Prada è quello che ha avuto nel primo semestre un incremento del 36%, Prada, che come tutti sanno produce oggetti di consumo giornaliero. Insomma, quindi ci sono delle profonde contraddizioni. Da una parte il lusso ha un incremento del 36% e dall'altra parte il mercato, quello... Anche i beni di consumo primario possiamo dire. I beni di consumo primario invece hanno avuto una forte contrazione, una profonda contrazione. È assente a livello quantomeno nazionale, ci sono delle eccezioni a livello locale, una legislazione appunto per l'apertura dei negozi e dell'attività dei centri commerciali nel mese di agosto. Sarebbe opportuno a questo punto, secondo Feder Consumatori, ripensare anche a questo, insomma, dato che il mondo è cambiato, non si va più tanto in vacanza ad agosto, si cerca per motivi economici di spalmare anche quel poco di fede che si può fare in altri mesi, ripensare, comunque regolamentare anche qualcosa di questo tipo, proprio per garantire, insomma, a chi rimane in città di non vivere in una Milano deserta anche dal punto di vista commerciale, insomma. Immagino l'anziana che è abituata a comprare la frutta e la verdura sotto casa, doversi fare con questo caldo anche solo 3-4 isolati, insomma, diventa piuttosto complesso. La regolamentazione del mercato è sempre una cosa molto complessa e sicuramente imporre a dei commercianti di aprire nel mese di agosto è un esercizio non troppo semplice. Sicuramente con l'introduzione della liberalizzazione degli orari e dell'apertura dei negozi si possono sperimentare nuove formule. Lo dicevamo prima, i negozi a conduzione, condotti da stranieri, hanno la propensione a rimanere sempre aperti. E quindi gradualmente col tempo, come avviene per grandi metropoli, che non sono Milano ovviamente, ma basta andare in Europa, noi vediamo questo fenomeno fortemente incentivato e quindi l'apertura dei negozi è qualcosa di molto più tranquillo, insomma. Non c'è sempre qualcosa a tua disposizione, anzi, voglio dire, normalmente è sempre perpetrato, non smettere. Certo, non dimenticando anche poi, insomma, la propensione molto turistica, soprattutto negli ultimi tempi ancora di più di Milano, quindi è giusto anche che, insomma, i turisti che ad agosto vengono in città e possono avere, possono avere tutti, come dire, le aperture dei negozi, le aperture dei negozi del caso. Sicuramente. Torniamo a noi, allora, volevo far vedere queste foto tratte dal sito online di Repubblica, che titola Quando Milano chiudeva per fere e si riversava sulle strade del mare. Vediamo queste foto in bianco e nero di lunghe code all'autostrada, soprattutto quella che andava sulla riviera Romagnola e che andava in Liguria. Sono code che noi ormai vediamo solo in due, tre, quattro giorni dell'anno, nei cosiddetti weekend da bollino nero. Non è più una Milano, non è più questa la Milano ormai di oggi, lo stavamo dicendo, io intanto continuo a far scorrere le foto. Perché stiamo parlando di una Milano che aveva tante industrie e c'era l'abitudine che chiudevano tutte in agosto. Le tre centrali di agosto erano. Allora via, appena chiudeva la fabbrica, il luogo di lavoro, tutti incolonnati con le proprie macchine, con la propria famiglia, gli amici, si andavano in vacanza. Questa era l'abitudine di qualche tempo fa. In pieno boom economico, comunque in un paese che è sempre stato sottoposto a diverse crisi durante i vari decenni, ma che comunque è riuscito ad andare avanti. Lo dicevamo prima, la difficoltà della nostra industria è una difficoltà vera e i salari si sono compressi molto per questo. Poi ci sono anche agenti esterni come i consumi dei carburanti di petrolio al quale noi siamo fortemente ancorati e fa il resto. La crisi economica ha creato una condizione particolare nel paese che quelle immagini non sono più ripetibili o perlomeno nel breve tempo non sono più ripetibili. Bisogna abituarsi a cambiare anche le nostre abitudini. Noi parlavamo di quelle che devono essere poi le risposte da parte del mondo del commercio per evitare di lasciare ai tanti. Ormai abbiamo detto che quest'anno sono stimati 850 milanesi che rimarranno in città per il mese di agosto, insomma a dare la possibilità di avere una città vivibile o comunque utilizzabile in tutti i suoi servizi nella maggior parte. Sempre Repubblica di oggi nelle pagine milanesi rende nota l'interessante, diciamo anche il giornale così lo facciamo vedere ai nostri telespettatori, rende nota questa lodevole iniziativa di un gruppo di frutti vendoli tra le zone di Porta Vittoria, Via Le Monza e Via Padova che hanno avuto un'idea. Chiuderanno i loro negozi nella settimana di ferragosto e nei giorni proprio centrali perché i costi sono tanti evidentemente poi gli incassi non sono quelli che possono bilanciare i costi ma distribuiranno ai clienti più affezionati del quartiere il proprio numero di cellulare così quando servirà riceveranno l'ordine via telefono, faranno la spesa insomma per la famiglia o per il singolo milanese che ne avrà bisogno e gliela consegneranno a domicilio. Un elenco mirato che abbiamo detto quindi i clienti più fedeli, noi parlavamo prima di una mancanza di una normativa che regoli insomma proprio nel modo specifico le chiusure o le aperture nel mese di agosto, questa è un'iniziativa lodevole che i singoli commercianti fanno proprio da una parte chiaramente per proseguire nei propri incassi anche nel mese di agosto ma per essere dalla parte dei cittadini insomma bisogna proprio ricorrere però a misure di questo tipo cioè singole iniziative da parte del mondo del commercio e poi chiedo anche un giudizio di Feder Consumatori su un'iniziativa di questo tipo. E' evidente che per esempio è stata citata un'esperienza interessante che noi pensiamo sia molto importante e molto lodevole, tra l'altro le persone che sono citate in quell'articolo le conosciamo anche noi personalmente e c'è l'evidente impegno di una serie di commercianti quindi che vogliono fare profitto di trovare un'occasione per continuare a fare questo profitto e quindi hanno trovato questa idea, questa cosa che secondo me porterà loro quello che loro si aspettano. Quindi il mercato ha bisogno di iniziative di questo tipo. L'altra questione per esempio l'assessore D'Alfonso parla di che bisogna rispettare i patti sottoscritti nella sua intervista ma non è stato sottoscritto nessun patto, questa è la questione, cioè il comune ha provato... E' un accordo a voce magari, accordi verbali. Il comune ha provato a chiedere alle associazioni di commercianti, a Federcola Distribuzione, di rimanere aperto in agosto e di dare comunicazione dei luoghi che rimanevano aperti. Alcune associazioni per esempio nei loro siti hanno una serie di negozi aperti o professionisti aperti, l'idraulico piuttosto che l'elettricista e quindi consultando questi siti di associazione è possibile vedere quali sono le persone, i soggetti che possono dare un servizio. Ma poi per il resto il mercato è assolutamente libero, per cui può capitare e capiterà sicuramente che nel centro di Milano non c'è un panettiero aperto e magari in periferia ce ne sono. Ecco, sta cambiando, cambierà il commercio, bisogna che ci sia un po' di studio a come cambia il commercio. Per esempio vorrei fare riferimento ad alcuni strumenti che sono stati introdotti da Regione Lombardia e che però sono poco utilizzati da tutti quanti, ovvero i distretti commerciali. Cioè la Regione Lombardia ha messo dentro una serie di risorse per poter osservare come il territorio cambia e come cambia anche il commercio, i costumi, le abitudini. Ecco, sono strumenti molto importanti che bisogna programmare prima, non dopo e poi quando si arriva sotto le vacanze in un mese non si può pretendere di fare chissà che cosa, in un mese non si fa nulla, si fanno due riunioni, tre riunioni. Ci deve essere una programmazione già dell'inverno probabilmente, di anno in anno addirittura. Addirittura di anno in anno, utilizzando i monitoraggi degli anni passati per capire che cosa è possibile proporre. Per esempio il Comune di Milano, in ogni caso, mi sembra che in questa settimana per sei o sette giorni al Castello Sforzesco ha concentrato delle iniziative, quindi fa vedere le persone, quindi quando si svuota la città per motivi commerciali come quelli dell'agosto, il Comune fa bene, anzi dovrebbe farne di più, per fare in modo che la città diventa vivibile, diventa una città di tutti, una città che approfitta magari della frenata frenetica della città di Milano con un po' di cultura attraverso la musica, cose molto belle che vanno diffuse e programmate nel tempo. E Milano, Gian Mario Mocera. Parlavamo dei pochi negozi che rimangono aperti qui in città ad agosto, la stima del 20%, nonostante il Comune avesse chiesto almeno il 30%, chi invece non molla mai è la grande distribuzione, quindi i grossi supermercati, i centri commerciali, ci sono dei numeri che sono stati diffusi proprio dall'assessorato al commercio, li andiamo a vedere, alimentari che garantiranno il servizio ad agosto, quindi insomma più del 50% del totale. La grande distribuzione in questo caso è aperta sabato, domenica, festività e anche ad agosto. Esatto, beh la grande distribuzione è più favorita perché essendo sostanzialmente un'industria ha capacità di avere molti dipendenti e farli tornare durante il periodo e quindi mantenere aperto. Motivi strutturali. Motivi strutturali, tant'è vero che a questi tavoli a cui facevamo riferimento col Comune, la grande distribuzione si è sempre presentata dicendo noi siamo aperti, ecco, cos'è che dobbiamo firmare? Sono gli altri che non volevano firmare perché non erano in grado di rappresentare, nonostante fossero le associazioni, il mondo diciamo dei negozianti in termini generali. Prima è quella dei negozi aperti ad agosto, abbiamo detto a Milano saranno circa il 20% quelli che garantiranno il servizio tutto il mese, dice Tommaso perché non devono essere le amministrazioni comuni che fanno precise legislazioni o comunque insomma impongono a questo commerciante o a quell'altro divisi magari per zone di rimanere aperti, dando quindi aiuto ai cittadini. Perché non è possibile? Io penso che non sia possibile per legge, non penso che un Comune abbia la possibilità di obbligare un commerciante a tenere aperto, il Comune ha fatto, lo dicevamo prima, un'operazione cominciata a luglio, ha chiamato tutte le associazioni e ha chiesto alle associazioni dei commercianti ovviamente di tenere aperto almeno il 30%, ecco io penso che se si voleva avere un qualche risultato, non si può pensare di incominciare a luglio a fare questa discussione con i commercianti e probabilmente bisognerebbe studiare il problema per capire esattamente se aprire un negozio ad agosto può essere invogliato, se può essere stimolato, ecco io credo che il Comune di Milano ha mancato probabilmente questo pezzo, cioè è partito a luglio, non si può pretendere in un mese di mettere attorno al tavolo mille soggetti e anche interessi completamente diversi, come vedete la grande distribuzione era lì con la penna in mano dice dov'è che dobbiamo firmare, noi siamo aperti al 50% mentre i piccoli commercianti non sono in grado di dire, di orientare.